Allora io sono Paolo De Carli e io Katia Pustinico, siamo mariti e moglie. Io vengo da Parigi, invece il Paolo viene da Trento. Cercando di guardi là abbiamo trovato questa casa che era in vendita, bellissima, ci siamo innamorati subito e da lì abbiamo cominciato a lavorarci dietro, a restaurarla. Abbiamo fatto un restauro conservativo, cioè non abbiamo cambiato niente della tipologia delle stanze. Che cosa rappresentano i disegni sui pogiori? Sono delle simboli religiosi, uno è l'HS che è il simbolo di Cristo e l'altro è Maria, è la protezione della Madonna, che si usa moltissimo nel Trentino Alto Adige, soprattutto in Alto Adige perché sono rimasti, hanno tenuto caro queste tradizioni, religiore ovviamente. che in Trentino invece si è cancellato un po' tutto, volutamente hanno cancellato la povertà e in questo hanno cancellato le tradizioni. Adesso purtroppo è il contrario, con queste modi dell'antico eccetera, una cassa di me e del nonno è una cosa straordinaria, che invece bisogna dare sempre il senso giusto alle cose. Ecco poi, io sono un artista e ero un insegnante dell'Istituto d'Arte di Trento e Rovereto. Insegnavo scultura e educazione visiva. Mia moglie è tessitrice, è artiste lissier, si dice, ha fatto la scuola dei Goblins a Parigi e tesseva gli arazzi per i grandi maestri, Chagall, Miró, Picasso eccetera eccetera. Faccio l'artista, faccio i cartoni, il cartone cosa vuol dire? Il cartone è un grande disegno per riprodurre in arazzo e mia moglie riproduce quello che io faccio. Riproduce e interpreta con le lane invece che con la pittura, i gessi. Siamo rimasti molto a Parigi, ho molta nostalgia di Parigi perché è una città straordinaria, meravigliosa, piena di cultura, si impara di tutto, è multiraziale. Dove avete trovato quei vasi sopra? Allora, guarda, questi sono tutti trentini perché li usano in tutta Italia, eh? Sono fatti per mettere le uova, che mettevano le uova per l'inverno con l'acqua di calce, avevano tutti la calce fuori. La calce è coperta dall'acqua che fa un cristallo, quell'acqua lì si prende e si mette nei vasi con dentro le uova che non vanno mai da male. Poi mettevano anche la carne, lo strutto, che sarebbe il grasso di maiale. Serviva in cucina, insomma, queste cose qua. Però dove? È quasi impossibile perché... Sai, dove hai trovato i bambinelli? Dove hai trovato i giocattoli? In tutta Europa, in tutto l'arco alpino abbiamo girato come i pazzi mercatini, internet, telefonate, signori, privati, e così via, insomma. Quando sei collezionista cerchi qualsiasi posto dove vai, c'hai sempre l'occhio che ha un richiamo alle tue collezioni, alle tue passioni. Qualcosa anche nelle discariche. Certo. Anche a Besenello, alcuni oggetti, anche perché dopo c'è un passaparole, la gente sa, sai che raccogli queste cose, che le restauri, che ne testimoni la provenienza, allora ti telefono, avrai questo l'interesse perché lo butto via. Allora andiamo a vedere se ci interessa, se ce le vanno, allora ce le vendono, a volte si fanno dei cambi, insomma, diciamo, si cerca di ricostruire la storia di tutti questi oggetti fatti dall'essere umano. Il ricercatore poi ha anche uno stimolo, no? E poi ogni oggetto trovato e restaurato, messo da parte, è la memoria sempre dell'uomo, dell'essere umano che lo ha fatto. Sì, sì. E anche questo ci sembra molto bello. Sì, a noi ci interessa, particolarmente a me come artista, a tutto quello che è fatto l'uomo. Mi interessa proprio tutto, la manualità, tutto quello che... Sto per dirti, a me non interessa andare in montagna a vedere il bel paesaggio, così, mi stufo, mi stanco, sì, va bene, bene. Per me è una questione chimica. Se tu mi dici, vieni a vedere un paesino, vieni a vedere una chiesa, vieni a vedere un gioiello, vieni a vedere un vestito, ecco, quello io... rinasco, perché l'uomo, ascoltare una musica, per esempio, ascoltare musica, ragazzi, mi raccomando, ascoltate musica, perché con la musica vai veramente in paradiso. c'è solo quelli che c'è nessuno. Ah, bravo. È lo spirito santo, le colombe che si usa mettere sopra il tavolo quando si mangia, nella stube. Ecco, anche lì è una collezione che abbiamo trovato, una vicino all'altra, differente, la scultura non si assomiglia, e ecco che parte la collezione. Accanto alla nostra arte siamo dei collezionisti, collezionisti di giocattoli antichi in legno, di cui c'è un piccolo museo, abbiamo fatto un piccolo museo, e siamo anche collezionisti, pur non essendo religiosi e credenti, i bambinelli, il bambino Gesù, ci interessava perché? Perché abbiamo acquistato un bellissimo bambinello siciliano, e da lì c'è venuta la curiosità, ma come mai questo bambinello, è così, ne abbiamo visto degli altri, abbiamo fatto il confronto, abbiamo fatto le analisi, mia moglie Katia scrive tutto, dove si rende, come la costruzione dell'oggetto, gli oggetti che ci sono all'interno, la scenografia, il perché, il per come, da chi è stato fatto, ecco che ora nasce una storia del bambinello, ed è affascinante, che ora non è possibile raccontare, perché sono quelli popolari, fatti in casa, sono quelli fatti dalle monache, che sono i bambinelli cinesi delle comunità cattoliche, eccetera, eccetera. Ci abbiamo una raccolta infinita. Cosa vi ha spinto a fare la collezione? Il fascino dei teatrini, dove sono messi questi piccoli bambinelli, e la tenerezza verso voi bambini, perché è la storia del bambino più importante del mondo, dicono, anche se tutti i bambini sono importanti. E allora dal primo, come vi spiegava il Paolo, si guardava un prossimo, un altro che veniva di qua, di là, fatto da una signora in un convento, fatto da un nono, in un maso delle montagne, e si guardavano tutte le differenze, come erano costruiti, come erano adobati, come erano vestiti, ecco, e diventa un appetito verso tutte le sfaccettature di un unico pensiero, cioè tu da un soggetto cerchi tutte le sfaccettature che l'essere umano ha inventato intorno a questo oggetto. E' la storia di una testimonianza di fede della piccola gente, fra virgolette, cioè nel senso non della religiosità ufficiale e dorata, ma dell'intento di fede di tutte le persone che avevano un piccolo bambinello sul cassettone in camera, per fede, ma per protezione del vero bambino, perché nei secoli scorsi morivano tantissimi bambini, perché c'era il freddo, la fama, le malattie, anche le donne quando mettevano al mondo questi bambini non avevano aiuto, e allora avendo questo piccolo bambinello sul cassettone, speravano di salvare il vero bambino, e questa è una ricerca che si chiama di antropologia, cioè di spiegare quest'intento di fede di queste persone, e noi siamo molto sensibili a questo sentimento, di un percorso non ufficial, ma di un percorso modesto, fatto sotto, e molto profondo e intimo. Allora qua abbiamo parte della collezione di questi bambinello Gesù, allora abbiamo qua un esempio in legno, depinto e dorato, e adesso, vediamo parlo, ecco, dopo abbiamo qua i famosi bambinelli napoletani in legno depinto anche quelli, uno con i capelli scolpiti e uno con la parrucchina in fibra vegetale, dopo qua ne abbiamo uno in cartapesta del centro Italia, qua ne abbiamo uno francese che è sempre in cartapesta col suo abitino, e quest'ultimo, che vi faccio notare, più piccolino, che però è interessante, perché è cinese, questi bambinelli vengono da tutto il mondo, questa è una piccola parte, della collezione, però vedete tutti molto diversi, guardate, guardate il corredo del Gesù bambino, perché a seconda le festività lui cambiavano anche l'abitino ogni tanto, vedi? Wow, quante fiori, quanti, wow, con tutte le perline, piacerebbe anche a te, anche adesso, molto femminile, con i fiorellini, perché vedi, non c'era questo edifera il maschio femmina, guardate le cuffiette, queste sono cose da battesimo del bambino vero, vero, guardate che belle cuffiette che lì le facevano le mamme, queste cuffiette qua, guardate che belle, le mamme tesi trinano, cos'è? quello dovrebbe... il lollo per far giocare i bambini, una volta, e questi più semplici, ma è sempre il lollo, con i denti, per le gengive, e qua per... è per farsi i denti, ma le bambine piccole usavano queste bambole? no, 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 questi sono tutti oggetti sacri, ci parla un po' della tua vita da tessitrice? adesso arrivo, volevo fare un mestiere d'arte e manuale, e siccome la pittrice, insomma, sapevo che non avrei potuto mantenermi, ho fatto la scuola di tessitura artistica a Parigi, la scuola dei Goblin, Goblin è il nome che è stato usato proprio agli arazzi francesi, perciò ho fatto questa scuola per cinque anni, e dopo, quando sono venuti in Italia, mi sono portata il telaio antico dell'Ottocento, e sono andata avanti con la mia professione, lavorando per pittori sia francesi italiana che mi chiedevano di fare i loro disegni in arazzo e soprattutto ho lavorato per il Paolo, un mestiere d'una volta con il quale non si vive ma che dà molte gioie perché è un bellissimo mestiere, dimmi. Dico che qua non è come il telaio di adesso che sono lunghi, esistono anche orizzontali, no? Questo si chiama ad alti lici si lavora dietro al telaio, questi sono i lici, i fili che si tirano per intrecciare il tessuto, questo si chiama il calco, si riprende la parte grafica del modello e dopo si fa la tessitura dietro, però non è come il tessuto meccanico dove si va avanti, indietro su tutta la lunghezza del telaio, ogni pezzettino è fatto per conto su e dopo viene tutto ricucito. Ma però questo disegno non stai quasi finendo? No, lo sto proprio iniziando adesso. La razza deve diventare più bella del disegno e per quel che il disegno si chiama cartone è una traccia di quello che diventerà. Quali sono questi? Questi si chiamano navette che servono a intrecciare la lana per la tessitura. Ma dopo cosa ne fai di questi le tessitura? Le contemplo eventualmente le vendo e quando mio marito fa le mostre le mettiamo nelle mostre le facciamo vedere. Le lane vengono comprate in Francia perché sono lane speciale proprio apposta per la tessitura. il telaio hai già un'idea di come verrà bello brutto? Certo perché io dal disegno prima di cominciare un arrazo lo guardo lo analiso parlo col palo per sapere se l'ha pensato più così più colare più chiaro più scuro e dopo si parte col lavoro. Quindi adesso che ho visto fai prima la base con queste righe e poi inizi il disegno come l'hai disegnato con la lana esatto nella razza vedi che ci sono questi fili di ordito basta un puntino più in su più in giù ti cambia tutta l'espressione di un volto perciò bisogna stare molto attenti come si lavora lavoro mattina e pomeriggio insomma 7-8 ore le faccio e va via circa 7-8 mesi a seconda le dimensioni a seconda la difficoltà del disegno questo qui questa è una scultura che ha fatto il Paolo e ha fatto questo racconto lui fa questi racconti messi sotto vetro e lì dovete guardare immaginarvi interpretare secondo me questo è un po' più istruttivo secondo me questo è un po' più istruttivo dell'intervista che abbiamo fatto l'ultima volta perché qui proprio vediamo una casa tipo di altri tempi anche a mio parere le case grezze e un po' antiche sono più belle di quelle moderne e delle ultime novità